Nuovo video di Farnet quest'oggi con le skin troppo bellissime raga, il pacchetto è veramente veramente bellissimo, io sono totalmente innamorato di queste skin, tra l'altro le ali sono della terza skin, quindi quella skin non mi piaceva molto ma le ali sono bellissime e di conseguenza sono veramente soddisfatta del pack. Ovviamente su PortaCreditStay2317 sapete qualsiasi tipo di skin, il nostro libro in descrizione è timeport e tratti tutte le libri, ma cosa facciamo quest'oggi oltre le pubblicità? C'è un po' di pubblicità in questo video. Allora, facciamo una roba un po' stupida, non c'è molto altro da dire, praticamente ci nascondiamo dentro una cascata e proviamo ad ammazzare i player da nascosti dentro una cascata. In una cascata, non in un bidone visto che c'è la possibilità di nascondere la cascata. No, nelle cascate, inoltre se fallisce la cascata perché non troviamo dei player, ok, quindi non troviamo nessuno da sparare, c'è un'altra tattica incredibile che ho trovato. No, ti prego. Bellissimo per fightare, ed è stare in riva dell'acqua, fare un emote che ti fa stare con il ricatto sotto l'acqua, sbucare all'improvviso e sparare i player, questo è fantastico. Quindi Ferre devi impostare come ballo, ok, quello che fa lo snake, sì, ce l'abbiamo dal battle passio a te. Ok, dammi un secondo che lo vado a cercare. È difficilissimo da trovare, comunque faremo tutte queste cose e ci vediamo in game, raga. La cascata è poco oltre questa casa, ovviamente abbiamo bisogno di qualche arma prima di poter iniziare, quindi cerchiamo qualche pezzo di equipaggiamento e dopodiché si inizia. Beh, sicuramente una R. Che non riesco ad andarci? Ah, c'era una pistola bianca, ho preso la blu. Eh, pistola blu. SMG, che anche questa può essere buona, l'SMG, no? No, 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 ci serve la remia a distanza. Solo la remia a distanza. La remia a pompa per quando facciamo il trucco sott'acqua, ok? E invece il fucile, sì, vabbè, AR, eccechino, cascata, fucile a pompa, shalala, ok? Tranquillo, ho capito, tranquillo. Non so parlare, la mia vita fa schifo. Ma quello è normale. Non esce lì, no? Sì, perché no? Ok, vedo un player lì. 18-37 con la pistola blu. Attenzione. Pistola blu pure te, ma no. Sì, sì, sì. Era un po' brutto. Però l'ho distrutto, eh. Pure io. Ok. Wow. Eh sì, l'ho fatto arrabbiare. Sì, però non mi togliere l'albero. Scappa, scappa. Allora, io vorrei anche una canna da pesca, che potrebbe far comodo. Io l'ammazzo. Che paura, oh. Ma ci calmiamo un attimo. Questo ha il cecchino e pensa di poter cechinare gli altri. Andiamo, via. Via, 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 via. Però è un po' smirato. Mo' mi prende. Ma il po'. Mo' mi prende, guarda, tanto non so che io ogni game mi devo prendere almeno una cecchinata, Steph. Sì, ormai sappiamo come funziona. Ma che si fa? Andiamo nella cascata? Sì, sì. Ormai li lasciamo perdere. Eh beh, aiuto. Penso anche che pesco questa pozza. Però peccato, esatto, pesca. Ce l'hai una canna? Sì. Ottimo. Dimmi se ci sono player sotto di noi, però. Perché è così che funziona il trucchetto della cascata. Altrimenti, raga, facciamo un po' quello del fiume, che invece funziona tantissimo. Troppo di più. Come on. Ah, ma avevo pescato. No. E allora? Secondo che c'è troppa corrente. Dai, 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 dai. Questa è una finta, devi rifarlo. Ti sposta un sacco l'amo. Ok, pesciolino verde. Accidenti. Non c'è nessuno? No. No? Volendo possiamo luttare anche qui di fronte. Questa casettina. Ti faccio vedere come funziona, raga. Praticamente voi da qua grabatte e poi cadete sotto. Ok. Fine. Come ci nascondiamo, scusami? È difficile. Infatti devo far vedere come si fa. Allora, però, continuo un attimo a pescare perché vorrei anche delle armi per poter fare le cose. Comunque sì, in questo isolotto purtroppo non è sceso nessuno, ma potrebbero uscire quelli dalla città fra un pochino. E io ho appena trovato l'aria blu. Dalla casa, dalla casa, dalla casa. Quindi tecnicamente ci dovremmo nascondere, stai. Vai veloce, vai veloce. Torna al fiume, torna al fiume. C'è un lava, no. Dove? Qui dietro. Lo vedi? Eh, pensiamoci dopo. Ok. Magari usciamo al volo e lo prendiamo. Praticamente, adesso devi scendere di sotto. Ok. E ti fermi. Guardate. Ma non riesco. Acco, faccio, ti stai ferma. Guarda allontanando l'inquadratura. Vedi che sei dentro l'acqua? Ah, sì. Perfetto. 22, 22. Infatti non si sente niente. Sono tappato. Sì, lo so. Dov'è? Ma sei tu che spari? Sì, sì. C'è quello là. Lo vedi? Sì. Però io ho una pistola. 18, 18, 18. 22. Ma un bot. 22, 22. Morto? È un bot. Dai, raga, è un bot. 22. 17. 22. Tombola. Uccisi. Ok. Dai, erano due bot queste. Può essere. Però hai visto. Cioè, guarda, non ci vediamo. Come posso unitarci? C'era praticamente quello lì fuori dalla casa. Che io ho detto un bot perché girava su se stesso e non capiva meno. Sì, lo so. Però è andata. Cioè, è bella. Lui comunque è una R. Ti piace? Io con la pistola ho fatto la città. Puoi dire che è una figata? È una figata. Ragazzi. Accidenti. Non voglio però stare sott'acqua perché quello mi preoccupa un po' di più. Io non ho armi, Stef. Vorrei ad esempio luttare questi e prendermi l'arma. Ma infatti andiamo a luttarli adesso. Andiamo. Buttati qua sotto, sì, sì. Tanto in effetti non dobbiamo stare nascosti forever. No, non è una challenge di stare nascosti. È solo una challenge dove facciamo i burloni. Ti faccio vedere l'altro trucchetto al volo così lo vedono anche i consulini. Tu ti fermi in un punto in cui tocchiamo la pena con l'acqua. Io vado a luttare. Tu fallo vedere, Stef. Fai questo. E guardate. Anche così si sta sotto l'acqua. E dato che il rumore sta sott'acqua, come potete vedere... Non si sente. Non si sente molto. Cioè, tipo sotto lo senti così. Qua lo senti così. E di conseguenza non ci si nota molto. E si può chilare la gente in questo modo. È una figata. Vi faccio imparare le tattiche dei infami. Perché lo sapete che Stef è il più infame dei miei fami. Io però sai che cos'è? Che non sto trovando una R, Stef. Oh. Orribile. Donate una R a Fere, poverina. Allora. Ma questo... Cioè, va, soltanto il tattico. Anche questo era una povertà. Gli cilvini. Vabbè. Però il tattico verde me lo prendo volentieri. Vai, vai. Io pesco qua. Tanto siamo vicini alla zona comunque. Sono un fucile a pompa, quindi. Dammi qualcosa di bello. Ok, pesce verde. Bene. Eh, Stef il lama. Sì, assolutamente. Andiamo a prenderlo. Che non ho neanche colpi di R, infatti. Pa, 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 pa. E lì ancora è carino che nessuno se l'è calcolato. Il problema è che io continuo a non avere la R. Probate, dai, vabbè. Fere, se lo dici l'altra volta, ha quitto. Non ho la R, Stef. Contate nei commenti quant'ora te l'ha detto. Eh dai, perché mi serve la cosa più essenziale. Ma nel momento in cui devi stare, sono lì. Comunque, altra cosa positiva, Stef, è che siamo dentro la zona. Sì. Quindi possiamo rimanere nascosti lì forever and ever. Possiamo ammunizioni di qualcosa in modo urgente. Perché ne danno pochi ormai lama. Boh. Sono pieni di maz, però. Certamente no. In modo urgente niente. Un po' di maz. Boh, se vuoi darmeli. Non ti do nulla, non ti do nulla. Cioè, io do le cose a chi li apprezzo nella vita. No, il fatto è che dobbiamo stare nascosti lì, quindi. No, io ormai la mollerei. Secondo me non c'è nessun altro in quella città. Sarebbero usciti già fuori. Quindi adesso, da lì in poi, possiamo utilizzare l'altra tattica. Ok. Ok. Il discorso è, qui a Lesi, secondo te, c'è ancora gente? Secondo me sì. Io sai che ho fatto. Adesso devo pescare la R a fare così sta zitta. Vieni. L'hai pescato? Sì. Davvero? Sì. Tranquilla, ti do la R normale. Ok. Io continuo a guardare comunque. Vedete che neanche ringrazia? Quella cittadina. Capite che tipo di persona è fere? Perché ti ho già ringraziato nella mia mente, va bene così? No. Sto cercando i player, non rompere. Secondo me ne escono altri da lì, perché questi erano nella casetta, non sono usciti dalla cittadina. Allora, vai a vedere. Però secondo me no. Vediamo. Ma perché fa le finte il pesce? È insopportabile sta cosa. Ha bocca? Non ha bocchi? Quindi quello stavolta è vero? Opla. Allora, se escono, Steph, è questo il momento perché sta chiudendo la zona. Quindi ultima occhiata che dopo... Ma te l'ho detto, se abbiamo già andati via, secondo me. O magari sono andati via anche da un'altra direzione, quindi non li avevo neanche visti. Eh, può succedere anche quello, però. In linea generale. Va, mi sa di no. Ok, un altro AR. Lo mollo qua. No, 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 è fuori. Dai, lascio stare. Ok. Lascio stare. Allora, io pescando sono riuscito a trovare il... Vabbè, un'altra AR che tanto non mi serviva nulla. Però ho trovato anche un pesciolino viola, quindi è un fuschile. Ottimo. Già. Buona cosa, buona cosa. Come on, come on, come on, come on, come on. Però aspetta, sto pesciolino verde lo prendo perché io li sto... Un'altra AR. Sta accando. Raga, ditemi se ho tratto tanti AR quante volte l'ha detto Fere, vi prego. Perché secondo me è successo. Steph, zona molto lontana. Bene. Bene, ci prendiamo una barca. Sì, iniziamo a muoverci. Se vediamo player ci buttiamo sott'acqua e continuiamo. Prendi tutti questi pesciolini. Esatto. Allora, ne ho trovato uno, due e tre di AR. No, secondo me Fere letto è cinque volte, quindi me ne sono altri due. Vediamo in questa. Non lo dirò mai più. Sono apposta, a me lo che non trovi uno scar. È una challenge. Ecco, l'ha chiamato. Dai, a bocca. Vai, prendi. Non posso poterne avere più di così, ne ho già quattro. Ne ho quattro? Allora, vediamo quattro trovo. E basta, sti pesciolini verdi. Almeno dacci quello viola per Fere e poi ce ne andiamo. Come on. Dai. Ma lascia, dai. No. È una questione di principio. Cioè, sono troppo curioso di sapere cosa esce fuori dalla pozzetta per lasciarla qua. Un'altra R, sono a quattro. Ne manca uno, raga. Ne manca uno. Fere. Andiamo. È più bella la mia. Guarda quanto è bella sta di Brea. No, è più bella la mia. Guarda quanto è più bella questa. È più bella questa. Dai, ammettilo che è più bella questa. Voto nei commenti. Tra le due livree di Halloween. Secondo me, però, è più bella questa. Guardate. Sono più figo io. Dai. È palese. Fere, non fa neanche guidarla. Anche questo conta, eh. Ma qui c'è una... Fere, airdrop. Dove? Alla nostra destra. Oh, non l'avevo visto. Ah, eccolo, eccolo. Fa un casino incredibile. Non riesco a sentire neanche la mia stessa voce. Accidenti. Grazie. Basta, dai, basta. Bruttale scato. Allora, occhio. Però sembra che non ci sia nessuno. Mi sembra che sia in quest'albero. Ok. Fere, va, ha chiamato lo Scar, quindi Scar leggendario. Scar epico. Vai, prendi, prendi. Perfetto. Ok, battle pass livello 48. Asino cotto. Oggi è burlone. Sei un personale serio qua. Credo è simpatico. Allora, devo trovare lo scillone a fare. Altri in timore. Perché, lo sapete, lei viene snapperata sempre. Quindi se almeno è full shield, è un po' più al sicuro. Finisci, l'one, grazie. Eccolo qua, vieni. Opla. Ok. Siamo anche ben messi. Vero? Sì, sì. Sì, abbiamo fatto le kill che volevamo dalla cascata. E quella è la cosa più importante. Abbiamo un bel equipaggiamento. Io sono soddisfatto. I consigli adesso sono tutte le tattiche da infami che si possono fare per rovinare la partita agli altri. Comunque, considerando anche lo scar dell'airdrop che ho chiamato, dopo aver chiamato anche l'uscillone, siamo arrivati a 5 scar e secondo me Fere aveva letto 5 volte. Fere, player di fronte a noi a 60 gradi. Un attimo che c'è una cassa. Ah, che sfiga che ho quelle foglie che coprono. Però a lui no. Salta. Come ho fatto? Ammissati. Siamo arrivati nel fiume e poi sbucchiamo. Eh, lo so, ma era lì da cechinare. Voglio usare anche la seconda tecnica, capisci? Eh, però siamo in endgame. Eh, lo so, però sarebbe bello. Eh, ma diventa più rischiosa. Dove stanno voi? Mamma mia. Ma eccoli. Accidentio. Fosse stato leggermente più grasso, l'avrei preso. Chi spari? Quel tipo. Va, me ne vado. Andiamo verso la zona. Niente di niente. Allora, loro stanno qui. Dietro? Da dove? Dietro. Sicura? Eh, ho sentito. Sì, nel ponte. Visto? 22, 22. È fermo che vuole cechinare? Credo. 105? Ucciso. Ok. Ma era un bot? Penso che sì. Penso che più che fermo a cechinare, forse fermo a picconare. C'era un player dentro quel bot? Era fermo a picconare, secondo me l'ha staccionata. Ah, i pesciolini, giusto? Sì. Ok, allora andiamo a trovare la zona per luttarlo. Eh, occhio che mi è sembrato di vedere qualcun altro che attraversava il ponte. Quindi giusto buttaci un occhio, solo quello. No, però no. I cellini sono full. Eh, io ho delle granate, poi ho pesci, quindi. Ok. Vabbè, non abbiamo neanche preso danno dall'altra zona. Ti servono colpi fare a R, tipo? Pochino a R, guarda, solo quelli. No. No, posto. Va bene? Sì, 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 perfetto. Forza, let's go. Allora, penso in 13. No, non è vero. Nella prossima zona c'è un fiumiciatolo, Steph. Ma in questo momento stanno fightando in mezzo ai fiumi. Quindi se noi ci avviciniamo... E poi facciamo boom! Sì, sì, sì. Andiamo, andiamo, andiamo. Oh, ma questa aspetta! Tanti di quei raggi. Steph, scar leggendario, ma che non l'hai visto? No. Qui dietro fermo, buttato così. Ma scherzi. Pensavo fosse una trappola che mi sbucasse qualcosa da sotto il terreno, guarda. E direi, Fere. Allora. Io mi fermo qua. Perché non lo posso fare? Perché non devi nuotare. Ah, non devo nuotare. Devi stare nell'acqua più alta possibile. Capito? Ok. Però mi vedono, mi si vedono i piedi. Eh, le stai facendo male, evidentemente. Sono un po' scarso, questa roba. Occhio. Ma da dove li sparano, poi? Da dietro, mi è sembrato. È dalla nostra sinistra, vero? Sì. Ok. Quando escono? Allora, se io mi metto qua, però, a ridosso di quest'isoletta, è perfetto, guarda. Sì, esatto. Ecco, così non mi vedo. Sono qui, Steph, a 300 gradi. Li vedo saltellare nella zona del mulino a vento. Non so se tu lo vedi perché dovresti avere la collina. Non ho una visione su di noi, giusto? No. Perfetto. Anzi, cioè, sì. Se voglio non si vedono. Su di te sì. Sì, su di te no. E io questi qua ce li ho di fronte, ma non se ne vanno. Non ne sta andando molto bene la seconda tattica. Sì. Tu sei fuori zona. Esatto. 24 di vita. Occhio qui lì alla sinistra, Steph. Ora ti vedono da lì, eh. Eh, lo so. Occhio, siamo in un panino. Vedi, è orribile. Ci siamo messi noi in sto panino. Sì. La tecnica del fare il vermetto non mi piace molto. Vero? Molto più bella l'altro. 33 bianco. 35 blu. 35, 33. Va bene tutto, ma ho fatto casca. Fortuna che ho preso pochissimo danno. 35, 35, non ha shield. Ok. Sto andando? Sto andando pure io. Sto dietro di te. Sto andando il team. Ho finito i materiali io, eh. Ok. Granate? Io, io, io le sto tirando. Brava. Non è lì, però? Sì, che era lì. L'ho ucciso. Brava. A terra. Lo sapevo che stava lì. Allora. Ai, 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 ai. Da dove, eh? Qui di fronte, di fronte. Era nascosto, eh. Non ci ho fatto caso. Però dobbiamo lasciarlo? Sì. Però ma che non ho vita. Sono morti? Mi mangio un pesce, Steph. Occhio. Sì. Ok. Ho shield in io. Ok. C'è anche uno sparabend. Non so se prenderlo. Te li putto? E se riuscite a lutarli, mazze? Eh, no. Purtroppo no. Fai le veloce. Tu, tirati gli shield. Non li vedevo, scusa. Nessuno diceva se prende uno sparabend o no. Ti ho dato la metà dei mattoni? Dove stanno? Gli ho presi, li ho presi. Ci lasciano. Sai che mi hai fatto... L'ho ritattato bene, eh. Ok. Qua. È bianco. 44 di vita. Con calma. Con calma. Ah, mi ha ucciso, Steph. Sono bassi. La vedete già cartella con calma. Eh, ma mi hanno lasciato, Steph. Erano tutti e due addosso a me. Non si sono curati, sono bassi. Avevo l'arma in ricarica, accidenti. Qua, 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 qua. Chirati entrambi? GG. È un corno, c'è uno spattolo da lontano. Non so niente da dove. Restami però. Sì, lo so. Mi prendo anche l'interno. Mi lasciano, zitta? Sì. Ah. T'arriva, t'arriva. È sopra di me. Ah. Occhio. Accidentio. Raga, non male, però... Rush, 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 rush. No, ci siamo messi in male in posizione per fare quella roba del vermino sott'acqua. Sì, beh, sì. Sì, 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 sì. Dai, però comunque è un match divertente. È un peccato perché questi si erano messi un pochino meglio. Penso che mi sarei distrutti. Perché non mi sembravano chissà quanto forti. Ma avevo il pompa scarico. Non uscivo mai a ristare tranquillo con l'oscillo a 150. Quindi veramente un disastro. In ogni caso ci premiamo così. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Qua sotto, come altri video, iscrivetevi al canale Capolina. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao.